è stata rigettata dal Tribunale di Roma con una ordinanza che io trovo francamente sbalorditiva perché il giudice ovviamente si è pronunciato dicendo che in parole povere non sussistendo un diretto di prelazione secondo legge un diretto di prelazione poteva essere riconosciuto agli inquirini solo a condizioni diverse ovvero o dai contratti di locazione o da accordi successivi che erano intervenuti con la parte locatrice proprietaria ma l'accordo è intervenuto perché la Vista stipulò il 26 maggio un accordo con Conet Casa e sindacati proprio per conferire loro un diritto di opzione che avrebbero dovuto esercitare cioè se mi arriva una lettera da Tintoretto Gestioni Immobiliari il 26 giugno in cui mi si dice che questi sono i termini e le modalità per esercitare un diritto evidentemente questo diritto a monte mi deve essere riconosciuto o quantomeno un'aspettativa legittima ad esercitarlo il giudice è stato di diverso avviso e non è sceso neanche nel merito della vicenda fermandosi a questa chiamiamola e oltre al provendo d'urgenza avete continuato chiaramente purtroppo non c'era più tempo per fare niente no nel senso se mi permette è chiaro che dobbiamo essere sinceri allora questo ricorso mirava a farci acquisire documentazione certo prima che ovviamente scadesse il termine per esercitare l'opzione lei si immagini che abbiamo dovuto attendere 15 giorni per poter avere l'udienza quella del ricorso d'urgenza se poi avessimo dovuto attendere i tempi per il giudizio di merito nel frattempo gli inquilini come facevano a non esercitare un diritto di opzione cioè si sono costretti sono stati costretti a comprare un appartamento tra virgolette al buio piuttosto che perdere la possibilità di esercitare l'opzione cioè a questo punto la posizione di inquilini è diventata quella di acquirenti in ogni caso voi per forza di cose insomma voi per forza di cose obbligati obbligati a comprare o a non comprare qui si è arrivato a un punto poi tra l'altro qui la lettera dice che le organizzazioni sindacali resistono poi naturalmente in tribunale rispetto cioè insieme alla visse srl sostenendo lo stesso però perché voi avete citato la visse srl poi alla fine? quello voglio la visse perché per evitare che ci fosse un giro di responsabilità la visse srl perché era ovviamente il soggetto che stipulava il contratto preliminare con la tintoretto gestione immobiliare che era la società incaricata da Conit società a sua volta scena anche la tintoretto chiaramente certo ah no perché qui parlava solo della visse perché dice che qui leggevo che sempre congiuntamente la controparte visse srl appunto resistono all'azione giudiziale resistono le organizzazioni sindacali degli inquilini però non veniva citata la tintoretto allora per questo era una omissione perfetto poi a quel punto cosa è successo? c'è stato un giudizio poi una sentenza chiaramente? sì c'è stata l'ordinanza che si è trannunciata all'esito del ricorso d'urgenza che come l'ho detto non è scelta però poi si è fermata all'esito del ricorso d'urgenza sì però ci ha condannato aspramente il giudice perché ci ha condannato 12 persone ci ha condannato a pagare qualcosa come 26, 28 milioni, 28 mila euro tutti i quali sì ovviamente c'è stata la condanna alle spese processuali certo data la particolarità della vicenda probabilmente la compensazione delle spese mi sembrava il criterio più opportuno da seguire in realtà il giudice ha deciso di seguire una linea che per l'amor di dio processualmente è consentita quella di condannare la parte che succumbenta al pagamento delle spese in favore di ognuno dei resistenti poi dopo le cose sono ancora state avanti cioè poi a questo punto adesso voi siete proprietari in questo momento dell'appartamento però anche le fasi di acquisto hanno proceduto sempre in maniera perché a un certo punto la cosa che mi ha colpito molto è la situazione dei nutai e qui tra l'altro c'è un'accusa molto molto forte effettivamente forse la lettera poi si rivolge un po' al vetriolo effettivamente più verso i nutai forse che verso tutto il resto per la fine l'organizzazione sindacali e i nutai perché praticamente ci hanno come si dice ci hanno in pratica abbandonati completamente non ci hanno mai assistito i nutai hanno fatto firmare delle procure che praticamente non concordate con gli inquilini se qualche inquilino come io che praticamente ho chiesto allora che titolo è un notaio adesso giuridicamente chiaramente lei è il mio appiglio giuridico il mio appiglio giuridico a cui mi aggrappo e praticamente a che titolo un notaio può far firmare una procura così senza un'autorizzazione da parte degli inquilini? non lo può fare il notaio non è che può obbligare ovviamente la persona a far firmare una procura senza autorizzazione dell'inquilino il notaio è tenuto ad attenersi a quelle che sono le istruzioni che ovviamente prevedeva la procedura il quale può dire gentile signor X o mi firma la procura ovviamente se non me la firma chiaramente secondo i termini delle modalità di esecuzione lei non potrà esercitare il diritto di opzione cioè il notaio ha ricepito quelle che sono le direttive o meglio le istruzioni previste nella lettera avete firmato la procura? avete sottoscritto questa procura? nel caso particolare non l'ho firmata non l'ho firmata perché poi in effetti ha comprato il mio muro comunque non l'ho firmata mia voglia e mi sono stato pure cioè un attimo devo cercare di capire questo punto perché è quello forse più forte diciamo proprio come quello forse più forte appunto di tutta la vicenda poi alla fine come attacco proprio come dire nei confronti di qualcuno insomma ecco la procura qui si dice addirittura che infatti gli inquilini futuri acquidenzi sono stati costretti ad approvare e a sottoscrivere una procura redatta da Tantino Dario da dare un gruppo di personaggi sconosciuti allora io vorrei cercare di capire costretti ad approvare che vuol dire costretti? costretti perché questo è importante specificarlo i notai si sono presentati con una procura come adesso vi faccio vedere la quale praticamente dice che la persona che deve comprare nomino e costituiscono quali loro procuratori speciali ai signori e citano 1,2,3,4,5 signori che nessuno conosce come è possibile che succede una cosa del genere? guardi allora io leggo testualmente quello che dice l'articolo 5,2 paragrafo 1 se mi permette della lettera quella appunto inviata dalla Tintoretto Gestioni Immobiliari che contiene i termini per esercitare l'opzione questo articolo citato impone ai ricorrenti opzionanti di conferire ad un incaricato della Tintoretto entro il termine perentorio ed essenziale del non è solo la data diciamo circa un mese prima del termine che era previsto poi per stipulare il contratto definitivo insomma una procura speciale al fine di procedere all'acquisto il loro nome e per loro conto dell'unità immobiliare dagli stessi condotto in locazione però ripeto gli impone questo senza preventivamente conoscere il contenuto della procura e di relativi poteri che con la stessa si andranno ad attribuire a un attualmente non meglio identificato procuratore il comportamento dei lotai in questo caso è stato legittimo il notario ha dovuto eseguire le istruzioni che erano previste il notario dice questa è la procura se me la firmate bene se non me la firmate io purtroppo esulano io devo terminare qui evidentemente non avendo esercitato la procura poi non potete conferirla a quell'incaricato della Tintoretto che andrà a stipulare perciò era costretto anche il notario a farlo secondo i termini dell'accordo comunque personalmente no perché qui sembra che quasi si è stato il notario le spiego subito nel caso particolare non temo di essere smentito ho scritto 50.000 lettere al notario Mosca prima al notario bianco poi al notario bianco che poi che sembrava che fosse arrogante va bene praticamente esce fuori a uno poi all'altro chiedendo che volevo sapere volevo leggere prima la procura e volevo leggere anche prima la bozza del rogito e notai non si sono rifiutati di darmi questo perfetto questo qui però quindi praticamente quando mi sono presentato con mia moglie per firmare non ho firmato successivamente la Tintoretto mi ha scritto dicendo caro signore se tu entri a Regione non firmi praticamente decati a quel punto praticamente sono stato cioè mia moglie è stata costretta a firmare siamo andati nel posto nello studio del dottor Mosca e abbiamo firmato il come si chiama la procura però la procura la quale tra le altre cose è molto estensiva si dice un sacco di cose che non riguardano nemmeno le cose quindi c'è un punto che le dicono comunque sia praticamente secondo me secondo me i notai anche se come dice l'avvocato erano costretti in quella determinata maniera però deontologicamente parlare dovevano ascoltare anche quei inquilini che volevano avere cognizione di quella della procura a quelli che andava bene firmavano a quelli che andava bene se io ti chiedo una spiegazione tu mi la devi dare sono obbligato a darla io adesso non conosco il codice deontologico dei notai ma immagino che ovviamente io mi sono mi sono documentato c'è una legge notarile che dice che il notaio deve accertare la volontà delle persone contraenti le vere intenzioni perciò se non lo fa è